Musica Salve a tutti e bentrovati in una nuova pillola di benessere. Tra le domande che maggiormente mi vengono poste c'è quella di indicare, secondo la propria altezza, quale sarebbe il peso ideale e come riuscire a perdere peso in maniera veloce. In realtà ad entrambe le domande abbiamo già risposto dedicando delle singole pillole, ma è sempre bene ricordare come non esiste un peso ideale in base alla propria altezza, in quanto anche lo stesso indice di massa corporeo risulta riduttivo in quanto non tiene conto della differenza tra massa magra e massa grassa, ragion per cui magari alcuni atleti che hanno un peso elevato per quella che è la loro altezza sicuramente potrebbero risultare sovrappeso facendo l'indice di massa corporeo, ma in realtà essendo costituito il peso maggiormente da muscolo non possiamo andare a richiedere un piano dietetico per andare a perdere grasso. Allo stesso modo è bene ricordare che non esiste nessun rimedio magico che in due giorni o in una sola settimana riesca a garantire una perdita di peso importante. E questo non perché ci si voglia andare a far perdere tempo al paziente, ma perché il nostro corpo ha bisogno del tempo necessario per far sì che il peso venga perso in maniera salutare, ma soprattutto venga perso per sempre. Tant'è vero che in seguito a questi regimi nutrizionali molto drastici che di solito fanno sì che si arrivi a perdere due, anche dieci chili nell'arco di una settimana, però vi garantisco, e magari alcuni di voi ne sono anche testimoni, come una volta lasciato quella follia nutrizionale eseguita, si va a riacquisire il peso perso addirittura con gli interessi. In realtà vale sempre la regola che per dimagrire bisogna mangiare bene, e per mangiare bene bisogna andare a seguire quella che è la dieta mediterranea, o comunque rivolgersi a degli esperti del settore e muoversi. Il movimento è necessario tanto quanto la corretta alimentazione, anche se magari alcune volte può risultare scomodo perché vuoi gli impegni lavorativi e vuoi anche gli impegni familiari, può risultare molto difficile doversi iscrivere in palestra, in piscina, o comunque poter praticare uno sport. E per questo viene in nostro soccorso il camminare. Vi garantisco che si può benissimo dimagrire mangiando bene e camminando, e questo perché con il camminare riusciamo a stimolare quella che è l'attività aerobica. Ma vediamo insieme quali sono tutti i benefici di questa attività che possiamo fare davvero tutti, sia in casa che fuori. Come abbiamo detto, il camminare aiuta a perdere peso, può farlo chiunque, in realtà dalla casalinga all'operaio, al bambino stesso, e non richiede un equipaggiamento specifico, in quanto se magari fatto dentro casa, a qualunque ora può essere fatto, è bene o male al massimo un tappeto se non si vuole uscire, quindi ci si riesce ad organizzare in una maniera anche molto semplice. Riduce quelli che sono i sintomi dell'ansia e della depressione, in quanto come tutte le attività fisiche riesce a stimolare delle endorfine e del benessere, è un esercizio fisico a basso impatto, ossia c'è anche un minore rischio di eventuali infortuni, e recenti studi testimoniano come compiere 10.000 passi al giorno, riesca a ridurre la frazione cattiva del colesterolo, quindi l'LDL, e addirittura ad aumentare la frazione buona, quindi l'HDL. Camminando riusciamo ad abbassare la pressione sanguigna, e anche a ridurre il rischio di numerose patologie tumorali. Riusciamo a mantenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue, quindi i livelli della glicemia, migliora l'umore, rafforza le ossa, e si riduce anche il rischio di infarto. Abbassa la possibilità di eventuali infortuni, si riduce lo stress e anche il rischio di malattie cardiache. Ovviamente abbiamo già detto che riesce a mantenere tonico il tessuto muscolare, riesce a tenere in forma di un'attività non a pagamento. Però è anche importante capire come camminare, ossia esistono alcune credenze nelle quali si pensa che magari bisogna correre tantissimo per bruciare maggiormente grassi. In realtà non è così, in quanto bisogna far sì che si mantenga un'attività fisica costante per almeno 30 minuti nella soglia aerobica, e magari potrebbe anche essere interessante andare a calcolare quella che è la frequenza cardiaca di ognuno di noi per vedere la frequenza appunto nella quale si vanno a bruciare grassi. E questo fa sì che camminando bene, il consiglio che io do è quello di camminare come se si fosse in ritardo ad un appuntamento, quindi a pasto un pochino svelto, senza però affarticarsi. Così come è bene lasciare il corpo comunque rilassato mentre si cammina e far ondulare le braccia, in maniera che non solo le gambe traggano beneficio da questa attività, ma anche tutto il corpo stesso, quindi sia le braccia che gli addominali. Magari per quanto riguarda anche l'attività fisica, esistono degli operatori specializzati, ossia personal trainer, che possono consigliare sulle migliori attività da fare, anche se è bene ricordare come loro possono solo dare consigli per quanto riguarda l'attività fisica e non la nutrizione, aspetto per il quale ci siamo noi esperti del settore. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato, io ringrazio Luca Chito e Regia e vi do appuntamento alla prossima pillola di benessere. Arrivederci. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.